Dario Fabri ha scritto un articolo proprio su la condizione geopolitica probabilmente più incapacitante per il nostro paese, cioè si è chiesto come si fa a stare nella sfera di influenza di due potenze nettamente più forti di te e dalle quali dipendi, la Germania e gli Stati Uniti. Del fatto che siamo dentro la sfera di influenza statunitense è piuttosto ovvio, abbiamo 13 mila militari sul nostro territorio, testate atomiche, siamo una piattaforma di lancio verso i teatri bellici più importanti degli Stati Uniti, che siamo nella sfera di influenza tedesca è meno evidente ma altrettanto cogente, una sfera di influenza che adesso chiedo a Dario di spiegarci i tratti e del perché sia così difficile per l'Italia barcamenarsi fra questi due soggetti. Grazie. Grazie Federico, grazie a tutti, buonasera. A me appunto è stato assegnato il ruolo del meno ottimista rispetto a Lucio Caracciolo, mi sono occupato di un alto triangolo che non è quello a cui faceva riferimento Lucio, cioè quello tra Italia, Germania e Francia, ma appunto quello che non è nemmeno un triangolo in realtà, ma comunque un rapporto a tre, il nostro con Stati Uniti e Germania, che resta al di là del triangolo con la Francia che è più o meno il nostro sogno di margine di manovra, di schietamento onirico, nel senso utilizzato più dagli altri che da noi, resta quest'altro triangolo, quello con Stati Uniti e Germania, la realtà dei fatti, cioè ciò con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni e nei confronti del quale la consapevolezza, non soltanto della nostra opinione pubblica e fino a lì più o meno ci siamo, e noi, ma anche della nostra classe dirigente non è spiccatissima. Di che cosa stiamo parlando? Federico raccontava della nostra collocazione dentro la sfera di influenza americana, così come dentro la sfera di influenza economica tedesca. Proviamo a capire perché? Proviamo a capire perché questo è così rischioso, allo stesso tempo difficilissimo da gestire e anche perché noi non possiamo fare altrimenti che starci dentro, salvo colpi di testa che potrebbero essere anche più drammatici della realtà. Dicevamo siamo dentro la sfera di influenza statunitense, vale la pena inserire un asterisco. Stare dentro la sfera di influenza di un'altra potenza non è mai una scelta. Una delle sciocchezze più grandi che si sentono quando si discute di argomenti come questi è dobbiamo ribadire, ad esempio, la nostra fedeltà al campo atlantico. È una formuletta che sentite spesso, che avete già sentito, quasi appunto fosse una scelta arbitraria. In una sfera di influenza non si entra mai per scelta, nessuno un giorno si sveglia e dice voglio essere nella sfera di influenza del paese X o Y, specialmente se, come nel caso nostro, dentro quella statunitense si tratta di sfera di influenza geopolitica to court, cioè non una sfera di influenza economica. Noi siamo dentro il campo americano perché siamo stati invasi e occupati dagli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale e qui sono rimasti gli americani. Oggi, raccontava anche Federico, sono circa 13 mila militari americani in Italia e non sono in vacanza, anche se noi abbiamo un po' l'impressione che lo siano. E non se ne andrebbero neanche se noi glielo chiedessimo, non è che se il governo italiano domani decidesse e intimasse loro di andarsene questi prenderebbero il largo, rimarrebbero qui, anzi probabilmente davanti ad una richiesta del genere aumenterebbero perché percepirebbero l'ostilità del governo locale. Affrancarsi da una sfera di influenza geopolitica si può soltanto in tre modi, o sconfiggendo l'egemone di qui sopra, direi che militarmente non è esattamente alla nostra portata, o per implosione dell'egemone di qui sopra, oppure perché un altro soggetto sconfigge l'egemone e ne prende il posto. Allora a quel punto automaticamente entreremo nella sfera di influenza di qualcun altro. Non ci sono, proprio non esistono altre possibilità. Stare dentro una sfera di influenza impone degli obblighi. Non ci dilungheremo troppo in questa sede, ma comunque la parte strategica ad un paese che è dentro, che è satellite di qualcun altro, è più o meno preclusa, cioè le scelte assolute che riguardano la traiettoria di una collettività che dentro una sfera di influenza come la nostra e quella americana non sono presenti. A noi è lasciata la parte tattica, cioè un margine di manovra dentro scelte assolute che prendono gli Stati Uniti, anche per noi. Allo stesso tempo siamo dentro la sfera di influenza economica tedesca, pure in questa non è che ci siamo finiti per scelta in senso macroscopico, però con una sorta di utilitarismo un po' ingenuo, sì. Le alternative non erano granché, intendiamoci. Allo stesso tempo abbiamo l'impressione che sia una sfera di influenza totalmente benigna e che comunque ci consente di sopravvivere. E tutto sommato è anche vero. Il centro nord Italia, tutte le province del centro nord Italia, tranne 11, hanno tutte come primo partner commerciale e la Germania. Addirittura molte di queste hanno come primo, secondo, terzo, quarto e quinto partner i land della Germania, con i quali hanno a che fare. E in larghissima parte, la seconda manifattura d'Europa, cioè la nostra, di cui ci vantiamo molto di avere, produce componentistica per l'industria tedesca oggi. Quindi essere dentro la sfera di influenza di un paese come la Germania significa esattamente questo. Se aggiungiamo anche che la scorsa estate, in pieno Covid, la Germania ha stabilito di compiere uno scatto in avanti per salvare noi, ma non perché ci voglia particolarmente bene figurarsi, ma proprio perché il centro nord Italia vive dentro l'industria tedesca e il nostro paese rappresenta un mercato eccezionale per la Germania, proprio perché abbiamo l'euro, altrimenti 30 anni fa ovviamente la Germania non vendeva tanti prodotti quanti ne vende oggi in Italia se non ci fosse l'euro. Addirittura per noi è una banalità, ma in Italia esistono discount tedeschi che semplicemente senza l'euro non sarebbero pensabili, senza fare i nomi, per non fare pubblicità, ma alcuni sono veramente molto noti e si freggiano anche di uno scudetto italiano, secondo il marketing, ma sono discount monti tedeschi che vivono nel nostro paese. La Germania ha una necessità di tenerci dentro e addirittura si espone per noi davanti ai mercati con la sua tripla A, consente all'onirica Commissione europea, che non rappresenta uno Stato, non potrebbe farlo, di emettere bond per il cosiddetto recovery fund o found, come si chiama inspiegabilmente in Italia, e con questi bond garantire la nostra sopravvivenza, appunto con la solidità finanziaria tedesca. Torneremo su questo scatto in avanti perché riguarda direttamente anche gli Stati Uniti. Quindi noi siamo in una sfera di influenza to cure, che è quella americana, e con un sotto insieme, un sottosistema, chiamatelo come volete, che è quello della sfera di influenza tedesca, mascherata finché dura da europea, che poi per carità ci si può credere e serva a non compiere una dolorosa autoanalisi, raccontarci i soldi come europei e l'aiuto europeo, la sfera di influenza è quella europea, ma queste amenità servono a non compiere nessuna autoanalisi, perché ovviamente è molto più doloroso, ammesso che a qualcuno interessi qualcosa, dirci che siamo dentro la sfera di influenza economica tedesca, che è un po' diverso, ma è la realtà, ai noi o beati noi, questo decidetelo voi. Perché tutto ciò è un problema? Grammaticalmente potrebbe non esserlo. Molto amareggiato, qualche secolo fa, Francesco Guicciardini raccontando gli italiani, diceva gli italiani, Franza o Spagna, purché se magna, essenzialmente questo potrebbe valere anche oggi ai nostri occhi, non siamo esattamente un popolo che spicca per orgoglio, quindi nessuno non dorme la notte se è dentro due sfere di influenza. Abbiamo altre cose a cui pensare, molto più divertenti secondo i nostri ragionamenti. Quindi tra Stati Uniti e Germania che problema c'è? Il punto della questione è che è possibile avere un vantaggio netto ballando fra due sfere di influenza, quando le potenze che sono alla testa di queste sfere di influenza, di questi sistemi più o meno si equivalgono. Allora può essere funzionale muoversi facendo il pesce in barile, perché si può estorcere qualcosa da entrambi i campi, perché ci si può non schierare mai fino in fondo e lasciarsi sedurre e lusingare sempre fino ad un certo punto. Questo è successo molto spesso nella storia. Guicciardini peraltro si riferiva a due potenze di taglia molto simile di allora, come era l'impero francese e quello spagnolo. La nostra tragedia è che Germania e Stati Uniti non sono potenze di taglia simile, non solo. Una, la Germania è dentro la sfera di influenza americana esattamente come lo siamo noi. E qui quella situazione si complica e si complica violentemente per il nostro Paese. perché gli Stati Uniti hanno un atteggiamento nei confronti della Germania che non è un atteggiamento amichevole. Anche su questo vale la pena inserire un asterisco perché non è esattamente di comprensione pubblica. Perché l'atteggiamento statunitense verso la Germania è inevitabilmente coperto dalla diplomazia ed è inevitabilmente coperto dalla retorica. ma l'ossessione statunitense per la Germania è forse imparagonabile a qualsiasi altra a livello mondiale. Basti ricordarci, qualora ve ne fosse bisogno, che gli Stati Uniti hanno combattuto due guerre mondiali contro la Germania, non solo, ed una guerra fredda in larga parte contro una parte della Germania se non tutta. visto che poi i piani strategici degli Stati Uniti impiara a guerra fredda in caso di conflitto con l'Unione Sovietica erano bombardare la Germania ovest se i sovietici avessero invaso quel territorio. Comunque distruggere la Germania in ogni caso, anche da parte americana. L'ostilità statunitense, in caso a questo non ci dilungheremo, non abbiamo tempo, ma sul piano strategico si basa sulla sensazione che la Germania possa dominare il continente europeo. Il continente europeo è il continente più importante del pianeta, anche in quello che bontà loro qualcuno ci racconta come secolo asiatico, cioè quello in cui viviamo che non sarà mai il secolo asiatico ma che vede ancora l'Europa come il continente più importante del pianeta. Ed è evidente che se questo è vero nell'elaborazione strategica americana, il pensiero che la Germania possa dominarlo, volente o nolente, non è esattamente accettato con seraficità dagli apparati statunitensi, tutt'altro. L'atteggiamento di ostilità americana nei confronti della Germania va crescendo, esattamente al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare. Gli Stati Uniti sono ad esempio largamente ostili al raddoppio del gasdotto Nord Stream che collega direttamente la Russia alla Germania, che passa come Nord Stream 2 e contro il quale si stanno in queste ore battendo violentemente. Minacciano di durissime sanzioni la Germania qualora portasse a compimento il tubo, il gasdotto che già esiste nella sua costruzione per il 96%. Non solo, poche settimane fa l'amministrazione Biden ha nominato un inviato contro il Nord Stream 2, letteralmente contro, ha questo il titolo, si chiama Amos Hochstein, che ha come compito quello di impedire la realizzazione di un gasdotto che è soltanto tedesco oltre che russo, nel quale formalmente gli Stati Uniti non c'entrano niente. Non capitava dai tempi della guerra fredda, ma se volessimo essere più crudi della seconda guerra mondiale, che gli americani avessero un inviato contro la Germania. Il gasdotto ovviamente preoccupa gli Stati Uniti, anche l'Italia è formalmente contraria, ma questo lo lasciamo da parte, perché va a raddoppiare quel collegamento sentimentale intrinseco tra gli idrocarburi russi, siberiani, in particolare la Germania, che uniti ad occhi statunitensi rappresentano un mostro a due teste molto pericoloso, in una sorta di complementarietà tra russi e tedeschi che si detestano, ma che sono complementari sul piano strategico, al punto da rendere complicato il controllo del continente da parte americana. La scorsa estate si è perfino verificato un episodio bizzarro per cui tre senatori americani molto influenti, uno anche un ex candidato alla Repubblica Statunitense, hanno inviato una lettera al sindaco di una cittadina molto più piccola di Lucca, che si chiama Sassnitz, sull'isola di Rugen, dove si svolgono i lavori per il Nord Stream 2, che si è visto appunto ricapitare una lettera da tre senatori americani che lo minacciavano di durissima rappresaglia se avesse continuato ad ospitare le navi che costruiscono il gasdotto nel suo porticciolo. Potete immaginare lo shock di questo povero amministratore davanti a tre senatori della più importante potenza del pianeta che scrive una lettera così violenta, ma ci dà l'idea dell'ossessione americana nei confronti della Germania. Così anche la durissima pressione statunitense contro Berlino di queste settimane, dopo che a dicembre la Germania, cioè l'Unione Europea, su enorme spinta tedesca, anche lì l'Italia faceva finta di essere contraria, stava per ratificare insieme al Parlamento europeo e poi nei vari parlamenti il cosiddetto accordo sugli investimenti con la Cina, che adesso è stato sospeso, notizia di una settimana fa, proprio su enorme pressione americana che teme anche i rapporti commerciali eccezionali tra Repubblica federale tedesca e Cina. E proprio per questo negli ottimi anni gli Stati Uniti hanno applicato sanzioni dure contro la manifattura tedesca, che poi vuol dire anche contro la nostra, che è detto che la manifattura tedesca vive, ad esempio contro la siderurgia tedesca. Sanzioni sempre formalmente a livello europeo, ma l'unica siderurgia esistente veramente a livello europeo è quella tedesca, quindi c'era poco da scegliere nel caso specifico. E se valesse la pena ancora ricordarci dell'ostilità americana, in pieno disimpegno statunitense dall'Europa, perché questa sciocchezza ci viene raccontata, dal 2018 ad oggi i militari americani presenti in Germania sono aumentati di 3.000 unità. E adesso, visto che se ne stanno appena andare finalmente dall'Afghanistan, una cifra imprecisata di coloro che lasceranno l'Afghanistan si trasferirà nuovamente in Germania. Ovviamente quando hai un interlocutore che ti preoccupa, tendi a controllarlo da dentro, possibilmente anche in formula militare. E l'Italia? L'Italia si ritrova in questa fase a sopravvivere attraverso garanzie tedesche per i mercati, che ci consentano, con la Commissione europea, di ottenere dei bond. L'atteggiamento americano nei confronti di questa apertura tedesca è estremamente frastagliato, è veramente indeciso nella sua formulazione. Il pannello è molto più semplice. Gli statunitensi non sono sicurissimi se esserne felici o meno. Sono felici che l'eurozona non imploda, così come possono essere felici del fatto che l'Italia, anche questo è più o meno nell'inconsapevolezza della nostra opinione pubblica, tra un anno l'Italia è in default, senza i soldi del cosiddetto recovery fund, né più né meno. Ovviamente che noi non finiamo in bancarotta è qualcosa che non dispiace agli americani, per molteplici ragioni, ma non sono sicurissimi che lo scatto in avanti compiuto dalla Germania su questo tema sia da considerarsi benigno, cioè sia da considerarsi qualcosa che è funzionale agli interessi americani. Certamente non possiamo convincere gli americani dicendo loro che sono soldi europei. Stiamo parlando di una potenza molto seria, ovviamente a cui è difficile raccontare la retorica, visto che poi sono il paese più sofisticato sulla propaganda, quindi confonderli su questo piano è un po' difficile. E quindi noi come ci ritroviamo? Ci ritroviamo con mamma e papà che litigano fra di loro. Nella nostra assoluta inconsapevolezza, e spesso può essere anche un vantaggio, perché siamo un divaghi senza neanche rendercene conto, ma rischiamo di pagarne un prezzo estremamente elevato. Mario Draghi è stato scelto in larghissima parte dal Presidente Mattarella affinché garantisse con la sua riconosciuta serietà l'arrivo di questi benedetti soldi, né più né meno, dicendo ai tedeschi. Sì, non vi preoccupate, ci conoscete come grandi cialtroni, ma garantisco io. L'altra ragione, saremo a vedere se sarei in grado di farlo, l'altra ragione per cui Draghi è lì è perché Draghi ha delle intrinsechezze, un'intimità eccezionale con l'amministrazione americana, perché Draghi deve svolgere il doppio lavoro. Non solo dire ai tedeschi state tranquilli, garantisco io, i tedeschi e i loro satelliti, quindi anche gli olandesi, mettiamoci i finlandesi, gli austriaci, che non hanno, ci teniamo larghi, un'altissima idea di noi, tenerci molto molto larghi. Ma Draghi è lì anche per dire agli americani, lo so, sono consapevole del rischio che tutto questo significa, non possiamo fare altrimenti, non è che l'Italia può rifiutare i soldi garantiti della Germania. Non può farlo. Ma dice agli americani, Draghi, sono consapevole di ciò che comporta, ma garantisco, sempre io Draghi, del fatto che non vogliamo altro che i soldi della Germania, non cerchiamo amore, né tantomeno vogliamo approfondire il nostro ruolo dentro la loro sfera di influenza. Lo vedete dalle manovre compiute dal governo Draghi in queste poche settimane in cui è stato in carica. Quindi uno spostarsi netto rispetto ai due governi precedenti, da un'apertura economicista, anche questo segno di disperazione verso la Cina del nostro paese, a una quasi totale chiusura nei confronti della Cina, proprio per segnalarci fedelissima agli Stati Uniti. Soltanto nelle ultime settimane, attraverso il Golden Power, il governo italiano ha impedito la vendita di due aziende ritenute strategiche italiane ad altrettante aziende cinesi. Una di queste è l'Iveco. Per capire la portata del gesto, l'Italia ha utilizzato il Gold Power nella sua storia quattro volte, due volte nelle ultime settimane. Aggiungiamo anche l'affair Biot, l'ufficiale di Marina apparentemente pescato con le mani nella marmellata a vendere segreti ai russi. Non ho idea se questo sia vero o no, ma questo non conta granché. Il punto è che quando una spia viene beccata, in questo caso una spia che non doveva esserlo, cioè che fa la spia per gli altri, ma è un cittadino italiano, dentro l'apparato militare viene beccata appunto con le mani nel sacco, si tende a nasconderlo. La grammatica prevede che non si dica mai all'opinione pubblica. È già successo, succede, potete stare tranquilli, perché non si vanno a segnalare tali vulnerabilità agli altri. Quando lo si dà in pasto ai media, come è capitato con questa storia, è per segnalare qualcosa a qualcun altro. Ancora una volta agli americani. Dire loro sappiamo tutto, siamo talmente fedeli che noi impediamo anche la penetrazione russa a qualsiasi livello dentro le nostre forze armate. Il punto è, tutto questo basterà, questa ostentata fedeltà atlantica da parte dell'attuale governo, basterà agli americani per evitare di prendersela anche con noi nel momento in cui la Germania compie questo scatto in avanti. A Washington si immaginano, Berlino, dominare il continente, addirittura pagando per gli altri, cioè per noi. Oppure l'ostilità statunitense crescerà ancora nei prossimi anni contro Berlino e noi ne finiremo inevitabilmente in mezzo. Soltanto un vantaggio abbiamo che non possiamo farci niente. Più o meno noi ci svegliamo in piena notte stupefatti da quello che ci succede intorno e anche se volessimo ad essere totalmente onesti potremmo farci veramente poco, vista la grandezza degli attori con i quali abbiamo a che fare. È vero altresì che essere nei consapevoli può evitarci qualche schiaffo totalmente gratuito. Gli americani non ci aiutano per niente in questa fase, perché come detto sono molto indecisi su che cosa fare? Da un lato sono combattuti nello spingere ulteriormente la Germania ad occuparsi di Eurozona. È come se fossero divisi gli apparati statunitensi fra due tattiche. Da un lato questa, dire se la Germania continua a spendersi per l'Eurozona prima o poi si impantana inevitabilmente, ne ha un danno netto. Quindi tiriamola ulteriormente dentro. L'Italia più o meno si aggrappa a questa roba qui. Anche il nostro avvicinamento alla Francia va in questo senso. La Francia economicamente non è lontanissima da come siamo messi noi e dà la necessità esattamente come noi che la Germania fra due anni non torni all'austerity, perché altrimenti tutti i soldi che immaginiamo di recovery fund qui non arriveranno mai, forse neanche metà. Se la Germania anche tra un anno, due anni tornasse all'austerity, perché come sappiamo non è che arriveranno tutti insieme domani. Ci vogliono anni, ci vogliono approvazioni su approvazioni. Da un lato gli americani possono starci su questo, immaginando quanto detto, cioè che poi si riverberi contro la Germania un troppo impegno. Dall'altro lato temono che tanto impegno consenta ulteriormente alla Germania di dominare economicamente il continente, fino a chiedersi che cosa vorrà fare da grande. Che ci fa con questa sfera di influenza? Oggi niente, ma domani chi lo sa? E questa mancanza di segnale che ad esempio durante la guerra fredda avevamo dagli americani, che ci dicevano sempre che per noi è, visto il nostro carattere, l'ideale, lì puoi andare e lì no. Noi eravamo più o meno tranquilli, addirittura ci permettevamo di avere il più grande partito comunista d'Occidente, perché tanto ci dicevano sempre gli americani fin dove spingersi, il resto era fizzio. Oggi non ci aiutano, sono indecisi loro stessi e questo ci fa nettamente sbandare. Un ultimo segnale è arrivato qualche settimana fa dalla Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe, che apparentemente con questa vicenda ci dovrebbe entrare poco. Gli apparati tedeschi, un po' come i nostri, sono stati scritti dagli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tendenzialmente il diritto che utilizzano e l'approccio che hanno è un approccio esogeno inevitabilmente. La Corte Costituzionale di Karlsruhe prima ha bloccato la ratifica del recovery fund da parte tedesca. Adesso l'ha sospesa ma l'ha lasciata passare, essenzialmente segnalando che questa deve essere una tantum, non in senso gergale, proprio tantum in senso latino, cioè una volta e basta e mai più. Quindi dicendo che cosa? Che la Germania deve tornare all'austerity. E quando il più alto apparato giuridico tedesco interviene in questo modo ci sta dicendo cosa pensano gli americani. Per noi una tragedia. E questa tragedia, mi rendo conto che non è più grande dei segnali di ottimismo, segnerà la traiettoria del nostro Paese nei prossimi anni, tra Stati Uniti e Germania in condizioni complicate come queste, nei confronti delle quali, come diceva anche Lucio Caracciolo, un uomo solo al comando, ammesso che lo sia, Mario Draghi non può moltissimo. Forse può maggiormente la nostra consapevolezza, nostra, a partire dall'opinione pubblica, si intende qualora l'avessimo. Mi fermo qui. Grazie. Grazie Federico. Buonasera a tutti. Sono davvero felice di poter essere qui a Lucca in quello che sarebbe dovuto essere un incontro internazionale Italia-Francia-Germania. Causa Covid non è stato possibile organizzarlo come sarebbe stato necessario, ma è semplicemente rinviato al prossimo anno perché noi consideriamo l'ospitalità e l'interesse di Lucca per la nostra rivista fondamentali e quindi sicuramente nella primavera prossima, grazie all'aiuto del Comune e della fondazione di tutti i nostri amici e sponsor, faremo un evento internazionale qui a Lucca. Qui adesso dovete accontentarvi di noi poveri italiani perché il triangolo sì è chiaramente un punto di vista italiano. Che cosa vuol significare? Vuol significare che, come sappiamo, noi ci stiamo giocando un po' tutto in questi mesi, non parlo di anni, parlo di mesi e in questi mesi quel tutto ce lo giochiamo in gran parte nel rapporto con Francia e Germania e cercherò di spiegarvi perché. Però prima di spiegarvi perché vorrei, visto che oggi parleremo molto di storia, vorrei darvi una mia percezione di questo rapporto triangolare fra italiani, francesi e tedeschi che affonda nella profondità della storia e che ci porta a una categoria, quella dell'Europa occidentale, che sembrava, e sembra ancora a molti, finita con la fine della Guerra Fredda, quando l'Europa era appunto divisa in Est e Ovest. Ed era divisa fra Est e Ovest lungo una linea che divideva le due Germania. Ecco, io penso che quella linea, geograficamente disegnata dal fiume Elba, sia una linea che ha una sua profondità, una sua legittimità e un suo irradiamento ancora permanente. Per questo basta leggere Giulio Cesare, il Debello Gallico, e osservare come Giulio Cesare e poi gli imperatori romani decisero di porre il limite della frontiera imperiale romana proprio tra il Reno e l'Elba, in quella specie di pomerio della romanizzazione che significava non plus ultra. Giulio Cesare nella sua opera definisce i Germani, categoria che non esisteva, l'ha inventato appunto Cesare, fra civilizzabili, romanizzabili e invece non temperaturi, quindi non temperabili, non assimilabili. In effetti oggi noi abbiamo in Germania storicamente una parte occidentale, la Renania, ma anche quella meridionale, la Baviera, insomma appunto lo spazio fra il Reno e l'Elba che è ancora disegnato da quel tracciato che poi è trascorso e si è consolidato nell'età che va da Costantino a Carlo Magno, ma poi è proseguito nel tempo. E quel tracciato non a caso è stato quello dove i sovietici americani si incrociarono esattamente lungo il fiume Elba nella cittadina sassona di Torgau il 25 aprile 1945, sancendo la divisione tra est e ovest. Oggi noi abbiamo un'Unione Europea 27 Stati che come è evidente non ha alcuna soggettività geopolitica né una particolare omogeneità storico-culturale e vorrei dire un parolone valoriale, ma soprattutto questo ci ricorda che esiste una comunità di interessi e comunque anche una coerenza di atteggiamenti molto ben identificabile nella parte occidentale dell'Europa così come lo è in quella orientale. E noi ci troviamo anche in un'Europa 27 a doverci confrontare con dei punti di vista storicamente e culturalmente radicati che difficilmente riescono a comporsi in un compromesso fruttifero. La battaglia in corso per esempio sulla politica migratoria piuttosto che sul recovery fund, tutto quanto viene spiegato in termini tecnici, in realtà ci sono dei termini culturali che segnano già i paletti e oltre i quali è molto difficile andare. Fatta questa premessa storica e quindi stabilendo che il triangolo è il nucleo dal mio punto di vista almeno dell'Europa occidentale o io direi meglio dell'Occidente europeo, perché l'Occidente non nasce in America, l'Occidente nasce in Europa e forma con gli Stati Uniti d'America a partire dalla Seconda Guerra Mondiale una intesa che non era stata nemmeno progettata come tale ma che la contingenza storica ha prodotto e che ancora oggi determina nello spazio continentale europeo quello che noi chiamiamo un po' per scherzo, un po' per divertimento, l'OIEA, l'impero europeo dell'America, cioè un'area strategica a dominanza americana in cui naturalmente si giocano poi le nostre partite. Cosa vuol dire giocare nel triangolo? Detto in maniera brutale vuol dire giocare i francesi contro i tedeschi e i tedeschi contro i francesi in base ai nostri interessi. Questo è quello che qualsiasi paese consapevole di sé e soprattutto consapevole dell'emergenza in cui si trova dovrebbe avere come programma. Un programma di questo genere ovviamente è giocato dai francesi e dai tedeschi ciascuno dal suo punto di vista nei nostri confronti. Quindi cercano di usarci per quello che conviene loro e naturalmente lo fanno pesare anche nel dialogo, chiamiamolo così, franco-tedesco che normalmente viene dipinto come una sorta di coppia amorosa ma che in realtà parte da due punti di vista e da due ideologie direi pure completamente incompatibili e divergenti ma che la storia obbliga a fingersi convergenti. In particolare noi possiamo esaminare queste disparità, queste divergenze e l'opportunità di usarle dal punto di vista italiano esaminando i principali problemi di attualità geopolitica che ci riguardano ed è quello che noi abbiamo cercato di fare nella trilogia, cioè negli ultimi tre numeri della rivista Limes di cui questo uscito ieri è appunto l'ultimo. Il primo essendo stato dedicato alla fronte sud, cioè alla frontiera mediterranea dell'Italia, alla frontiera che separa la Sicilia da quella che abbiamo definito Caoslandia, cioè la parte meridionale del pianeta a partire dal nord Africa, segnata da diversi fattori ma uno principale, la carenza di Stato, la carenza di istituzioni e quindi una certa facilità di penetrazione in quei territori da parte di potenze che siano la Cina, i paesi europei, in maniera molto più limitata all'America, utilizzano appunto contendendosi risorse e spazi o semplicemente cercando di non esserne travolti. E lì abbiamo dovuto constatare come la vera novità per l'Italia dell'ultimo anno si è stata di confinare non più con il caos in senso stretto ma con due grandi potenze, cioè la Russia e la Turchia, che si sono stabilite spartendosi la Libia a poche miglia dalle coste siciliane. I nostri pescatori ne sanno qualcosa ma non solo i nostri pescatori e quello che stupisce, almeno dal mio punto di vista, è la relativa indifferenza di fronte al fatto che noi abbiamo per esempio a Tripoli la Turchia che può aprire e chiudere il rubinetto delle migrazioni così come meglio le pare e naturalmente a seconda delle sue scelte può anche imporci delle tasse in senso stretto, cioè soldi da pagare perché queste migrazioni vengano contenute. Cito solo un esempio più banale, più di cronaca, ma se uno guardasse più in profondità l'idea peraltro, io direi più probabile che è possibile che i russi stabiliscano delle basi navali a poche miglia dalla Sicilia, anche questo credo che dovrebbe essere un fattore di riflessione per noi e sicuramente anche per il nostro superiore strategico americano che in Sicilia ha delle basi di notevole rilievo. Il secondo fascicolo lo abbiamo dedicato a Draghi, dove per Draghi non intendiamo ovviamente la persona Draghi, ma intendiamo il sistema di potere e di relazioni che questa persona incarna, cioè Draghi non è semplicemente Mario Draghi ma è stato trasportato, non sappiamo quanto spontaneamente, io penso piuttosto spontaneamente a Palazzo Chigi, proprio perché ti garantisce automaticamente un sistema di relazioni privilegiato, transnazionale con alcuni fra i poteri più rilevanti del pianeta, in particolare in America e nei principali paesi europei, più in Francia che in Germania. Quello che abbiamo visto già in quel numero e che questo numero sviluppiamo è, e qui vengo al triangolo, la singolare fase di allineamento tra Francia e Italia, due paesi che hanno storicamente molte cose in comune ma molto spesso hanno avuto in comune più i litigi e le crisi che non le campagne condotte insieme, accomuna, dicevo, Italia e Francia nella necessità di portare a compimento l'avventura del recovery fund dovuta peraltro alla scelta tedesca di salvare il nostro paese e con esso l'eurozona, perché semplicemente noi siamo, almeno in questa parte d'Italia, diciamo dal centro nord fino alla frontiera con Austria, Svizzera, Francia e quant'altro, dentro la sfera del valore industriale tedesco e questo solo fatto, insieme ad altri ovviamente, ha consentito di portare l'opinione pubblica o se non l'opinione pubblica il governo tedesco a considerare preminente la necessità di salvare l'Italia e quindi l'eurozona su quella che è la filosofia economica e direi anche spirituale della Germania, la quale considera la moneta appunto un'entità spirituale identitaria, la politica, diciamo, dell'indebitamento una colpa morale e quant'altro. Ma appunto in questa fase la Germania ha dovuto cedere alle pressioni francesi e italiane. La vera battaglia che si sta conducendo adesso, oltre ovviamente a portare, cosa difficilissima, a terra il Recovery Fund e questi 200 e rotti miliardi che teoricamente almeno ci sono stati assegnati, la vera battaglia, dicevo, è stabilire cosa succederà una volta finita, e speriamo che stia davvero per finire, l'incubo del Covid-19. E cioè, torneremo alle vecchie politiche restrittive di tipo monetario, di tipo fiscale, oppure sullo slancio di questo propriamente chiamato keynesismo, continuare a spendere, possibilmente spendere bene, naturalmente fare debito, quello che Draghi chiama il debito buono perché l'economia e in particolare la nostra economia ne ha bisogno. E su questo una intesa franco-italiana può essere decisiva nel convincere i tedeschi ad assumere un atteggiamento più consono ai nostri interessi e possibilmente spiegare loro che questo dovrebbe andare anche nell'interesse loro. Perché qual è l'alternativa? L'alternativa è andare a fondo, lasciare andare a fondo questo Paese e con esso inevitabilmente segnalare la fine dell'esperimento euro e quindi eventualmente la necessità di ricostruire degli ambiti monetari, ma inevitabilmente anche geopolitici, imperniati sulla Germania e sul nord Europa, che traccino una frontiera lungo le Alpi o lungo il Po, questo naturalmente nessuno può stabilirlo, e sanciscano sostanzialmente l'espulsione dell'Italia dal sistema euro-occidentale, non semplicemente dall'Unione Europea che sarebbe un male tollerabile. Sul fronte invece delle affinità italo-tedesche, oltre alla contingenza attuale che ci vede in qualche modo legati per motivi economico-industriali alla Germania in modo specifico, in un modo diverso, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente, a quello che ci lega alla Francia, per dirla in due parole. La Francia ha un approccio sostanzialmente predatorio nei confronti dell'economia italiana. La Germania ha costruito, naturalmente a partire dalla sua prevalenza, un sistema di interdipendenza, nel senso che la nostra industria manifatturiere dei servizi del Nord Italia è parte determinante della produzione tedesca e viceversa, naturalmente noi siamo in una buona misura fondamentali per lo sviluppo e la crescita dell'economia tedesca. Quindi questa affinità fra Italia e Germania può essere spesa, per esempio, nella nostra frontiera meridionale, quella che adesso sta diventando e diventerà nelle prossime settimane sempre più calda a causa della pressione migratoria, a causa delle eventuali, direi abbastanza probabili, ripercussioni anche all'interno delle nostre società della crisi israeliana, cui fra parentesi dedicheremo il numero di giugno. E che cosa ci rende più affini alla Germania piuttosto che alla Francia nella frontiera meridionale? Beh, semplicemente il fatto che a sud del canale di Sicilia si apre uno spazio che la Francia considera suo spazio imperiale di fatto, mentre la Germania ha sempre guardato al Mediterraneo e al Nord Africa con una certa distanza, uso neofemismo, e anzi l'idea stessa di Mediterraneo è considerata in Germania un'idea fondamentalmente perversa, mentre in Francia è addirittura una religione. Il pensiero mediterraneista francese ha avuto e ancora ha un'influenza fondamentale in Francia, soprattutto nelle élite e nei laboratori geopolitici francesi. Non c'è quasi, anzi non c'è proprio presidente francese che non abbia cercato di intestarsi un progetto di unione mediterranea variamente chiamata, adesso si chiama Pax Mediterranea, tanto per restare a Roma, proprio per segnalare il fatto che la Francia cerca di compensare a sud quello che la Germania ha conquistato da un punto di vista economico, quantomeno nel centro e nell'est dell'Europa, cioè la cosiddetta Mitteleuropa per dire alla tedesca, mentre per la Francia si tratta di dare un senso a quella con termine non elogiativo, viene chiamata la France Afrique, cioè l'Africa francese, che la Francia vede anche sotto una prospettiva linguistica e culturale, perché i francesi sono molto attenti al valore della lingua, dicevo prima del valore spirituale che la moneta ha in Germania, beh per la lingua la Francia ha una passione perché la considera un fattore di potenza e la cura al punto di avere creato una specie di ONU, si fa per dire ovviamente, è una cosa molto più seria in questo caso, una ONU francese della lingua in cui si mettono insieme tutti i paesi più o meno francofoni, anche quelli che francofoni non lo sono affatto, ma li si organizza intorno a un'idea di lingua francese, tanto da permettere all'attuale presidente Macron di stabilire che l'epicentro della francofonia non è né sulla riva destra né sulla riva sinistra della Senna, ma da qualche parte nelle insenature del fiume Congo. Questo per dire della proiezione verso sud che la Francia ha, considerando quindi il Mediterraneo e l'Italia come una sorta di passaggio verso questo futuro africano, tanti auguri alla Francia. La Germania quindi può essere un fattore di contenimento, di mitigazione di alcune velleità un po' eccessive della Francia che noi abbiamo sperimentato per esempio in Libia, dove i francesi hanno fatto fuori Gheddafi senza sapere chi mettere al suo posto, o meglio mettendo al suo posto prima il caos, poi la Turchia e la Russia, con risultati che per noi sono piuttosto devastanti. Mi fermerei qui con una ultima considerazione. È chiaro che questo triangolo ideale che abbiamo disegnato in questo numero è un triangolo scaleno, in cui i rapporti di forza sono decisamente a nostro svantaggio. Però anche in una condizione storica sedimentata nei secoli, come quella che determina una superiorità francese e tedesca rispetto all'Italia come fattori di potenza complessivi, dobbiamo considerare la contingenza che fa dell'Italia oggi paradossalmente per la sua debolezza e per le sue dimensioni un Paese sistemico, cioè un Paese dal quale dipende il sistema di cui Francia e Germania sono i perni europei e naturalmente di cui gli Stati Uniti sono i guardiani di ultime istanze. Questo spiega come mai, per esempio negli ultimi anni, ma direi soprattutto da quando abbiamo Draghi in maniera smodata nelle ultime settimane, la grande stampa delle élite americane, francesi, inglesi abbiano improvvisamente scoperto l'Italia, ci sia quasi una sorta di deificazione di Draghi. Purtroppo sappiamo molto bene che per quanto abile e connesso Draghi da solo non può certamente salvare un Paese che non si vuole salvare e dà quindi il senso di un'opportunità che noi possiamo e credo dobbiamo cogliere perché l'alternativa è quella che tutti conosciamo e che preferiamo non nominare, specialmente in un ambiente meraviglioso come questo, non fosse che per scaramanzia. Vi ringrazio. Quindi il triangolo che serve sostanzialmente per tornare a contare, senza però dimenticarsi dei profondi vincoli che ha il nostro Paese nei confronti anche di altri Paesi. Bene, buonasera, sono Lucio Caracciolo di Limes, alla mia destra personaggio che non ha bisogno di presentazioni, lo storico Alessandro Barbero, che molto gentilmente ha accettato il nostro invito per parlare qui a Lucca, città che di Napoleone ha qualche memoria, appunto di Napoleone Bonaparte a 200 anni dal 5 maggio 1821 dalla sua morte nell'esilio di Sant'Elena. Lo facciamo nel contesto anche di un numero di Limes, quello che abbiamo appena finito di presentare, il triangolo sì, in cui il rapporto storico, culturale e geopolitico tra Italia e Francia è particolarmente sottolineato. Infatti, come tutti sanno, Napoleone Bonaparte è stato il primo presidente della Repubblica Italiana, tra il 1802 e il 1805, salvo poi farsi incoronare re d'Italia e diventare quindi il nostro monarca, sia pure di una parte limitata dell'Italia, tra il 1805 e poi la disfatta finale e poi l'esilio a Sant'Elena. Un personaggio estremamente controverso che ha legioni di ammiratori e altrettante legioni di denigratori. Noi proveremo, Alessandro Barbero soprattutto proverà a contestualizzarlo storicamente e naturalmente a considerarne l'eredità. Questo nostro dialogo, caro Alessandro, avviene esattamente 225 anni al giorno preciso, dopo l'ingresso del generale Napoleone Bonaparte, generale del direttorio francese, qui a Milano, inteso come la città dominante nel nord Italia, dove scacciando l'austriaco appariva come il grande liberatore. Ed era questo il sentimento prevalente, ci dicono le cronache, nella popolazione milanese che appunto il 5 maggio del 1796 accoglie Napoleone Bonaparte, non ancora 27enne, nella città lombarda. Si discute molto ancora oggi sul senso della presenza e dell'impegno di Napoleone in Italia, l'imperatore che volle fare di Roma la seconda capitale dell'impero e che, non dobbiamo dimenticarlo, di origine era italiano, lui anzi diceva più precisamente, io sono italiano o toscano più che corso. Italiano o toscano più che corso, anche rimembrando le radici familiari medievali nella Firenze del 200, si hanno le prime tracce dei giorni di buonaparte con la U e sappiamo anche che uno dei suoi avi era stato un capofazione di Bellino. Poi nel Cinquecento un suo antenato si trasferisce in Corsica, che allora era sotto ogni profilo un territorio legato all'Italia, un territorio italiano. Poco dopo la nascita di Napoleone, quello che era stato già deciso con l'avvento della Francia in Corsica diventa un dato di fatto permanente, tuttora vigente, e Napoleone infatti dirà diciottenne, sono nato quando la patria è morta. Su questo sentimento di italianità e anche sul fatto che lui parlava italiano, quando viene incoronato e dice Dio me l'ha data e guai chi la tocca, lo dice infatti in italiano. Si gioca anche tutta una polemica francese. Napoleone, oltre per le sue idee politiche, per le sue gesta militari non sempre apprezzate da tutti i francesi, nei salotti dell'aristocrazia francese era sempre trattato come un personaggio un po' così anfibio, non perfettamente francese, non solamente, ripeto, per ragioni di carattere politico, ma proprio per le sue origini. Ma questo ha un valore relativo oggi, che dobbiamo inquadrare questa figura, appunto in una città come Lucca, che molto gli deve, e quindi prego Alessandro Barbero magari di spiegarci che cosa ha significato nel contesto della parabola non solo personale di Napoleone, ma della sua geopolitica, della sua idea di sé e della Repubblica prima, dell'Impero poi, la campagna d'Italia, in particolare la prima, e che cosa ha lasciato a noi. È stato un liberatore, è stato un conquistatore, è stato che cosa? È stato tante cose insieme naturalmente e tante cose diverse a seconda dei punti di vista e a seconda di come si collocavano i contemporanei nei suoi confronti. È stato tante cose, è stato tante cose anche nell'arco della sua vita e su questo la prima cosa che mi sembra importante che ci chiariamo è questa. Noi guardiamo al passato, in particolare noi che lo studiamo di mestiere, noi storici, ma tutti noi adesso che siamo qua a parlare di Napoleone e noi siamo qua a parlare di Napoleone e sappiamo che lo stesso giovanotto che ha sbaragliato i piemontesi e gli austriaci durante la campagna d'Italia e ha costretto l'imperatore d'Austria a chiedere la pace e ha creato le repubbliche in Italia e poi noi sappiamo che lo stesso giovanotto pochissimi anni dopo ha fatto il colpo di stato di Brumaio e ha battuto quel direttorio che invece serviva qualche anno prima e si è proclamato primo console, poi sappiamo che si è proclamato imperatore che ha creato un sistema europeo e sappiamo che ha vinto grandi battaglie e che ha perso l'ultima e che come dire avendo cominciato la sua vita in un'isola e avendo fatto poi un intervallo toscano in un'altra isola l'ha concluso in un'altra isola ancora, un personaggio gigantesco da tutti i punti di vista ma sapere come è andata a finire ecco è anche un danno per noi che lo guardiamo da oggi perché noi non riusciamo più a vedere quello che vedevano gli italiani del 1796, non era Napoleone, era il generale Buonaparte per l'appunto, anche se devo dire la grafia Buonaparte o Bonaparte si dice sempre che lui alla fine preferisce Bonaparte perché è più facile da pronunciare per i francesi ma in realtà già nei documenti corsi della famiglia la grafia oscilla, all'epoca non importava niente a nessuno dell'ortografia e quindi il nome si trovava scritto in entrambi i modi ma era un giovane generale alla testa delle armate della rivoluzione, prima ancora di essere le armate francesi erano le armate della rivoluzione, poi passeranno gli anni e ci saranno popoli in Europa che decideranno che quelle non sono armate che portano la libertà, i diritti, sono armate straniere e contro di loro il popolo deve insorgere, succederà così in Spagna, succederà così in Russia, succederà così in Germania, ma nel 1796 certo sono le armate francesi però miracolo il loro generale parla italiano ed è venuto in Italia proclamando di portare la libertà all'Italia. È una bella cosa, dipende, ci sono come dire giovani i quali cominciavano a patire dopo aver studiato la storia della grandezza dell'Italia nel passato e facendo il paragone con quello che era l'Italia in quel momento, un'Italia di piccoli stati tirannici o addirittura di dinastie straniere, ecco ci sono giovani ai quali non sembra vero che stia succedendo questo, ecco noi dobbiamo anche tenere presente l'altro problema che noi abbiamo quando studiamo il passato, sappiamo già che è successo tutto, certo la campagna d'Italia, tutte quelle vittorie, arcole, rivoli e certo non ci stupiamo più, invece noi dobbiamo conservare la capacità di stupirci, la capacità di vedere le cose come le vedevano loro. E allora come le vedevano loro? Non tutti allo stesso modo, ma vi pare che in Italia possa succedere qualcosa di grandioso e che tutti gli italiani lo vedano allo stesso modo? Ma quando mai? Neanche negli altri paesi succederebbe, ma figuriamoci in Italia, ecco. E allora ecco, io credo che la maggioranza dei giovani nell'Italia di allora è Standal ha colto benissimo quali erano i loro umori, i loro sentimenti quando ha inventato Fabrizio del Dongo, nella Certosa di Parma. Per la maggior parte dei giovani, e ovviamente sto parlando dei giovani della classe dirigente, dei giovani che erano andati a scuola, dei giovani che sapevano leggere e scrivere. Per la maggior parte di quei giovani la rivoluzione è qualche cosa di grandioso, a scuola i frati e i preti che gli insegnano gli dicono che invece è una cosa terribile la rivoluzione, una cosa diabolica, infernale, che i rivoluzionari sono la feccia e l'idea che questa cosa stia arrivando in Italia spaventa tantissimo, spaventa una gran parte del clero, spaventa tanti contadini i quali non hanno una visione del mondo molto più ampia di quello che il parroco gli può spiegare durante la predica, spaventa nobili che temono di perdere i loro privilegi, sì ma in realtà la maggior parte dei nobili sono maturi per dire purché il paese cambi noi potremmo anche rinunciare ai nostri privilegi, anche in Francia la rivoluzione l'hanno fatta i nobili, non solo i borghesi, Robespierre era nobile e Napoleone è nobile per l'appunto. Allora la prima cosa da chiarire è questa, per l'Italia è un avvenimento folgorante, sconvolgente, spaventoso per molti, grandioso per moltissimi altri. Noi poi non siamo tenuti a schierarci da una parte o dall'altra, però col senno di poi sappiamo che la storia d'Italia è andata più nella direzione di quelli che, come dire, hanno accolto le armate francesi come dei liberatori e invece quelli che hanno cercato di impedire che i francesi arrivassero e con loro la libertà e legalità, hanno poi cercato di impedire anche l'Italia Unita e la libera chiesa in libero stato e insomma erano dalla parte, si trema sempre un po' a dire queste cose, ma in fondo dopo secoli lo possiamo dire, c'era chi stava dalla parte giusta della storia e chi stava dalla parte sbagliata della storia, nel senso che la storia poi è andata in una certa direzione e nell'insieme noi che veniamo dopo siamo contenti che sia andata in quella direzione, siamo contenti di vivere in un paese dove gli ebrei o i protestanti non sono gente senza diritti ma dove i diritti sono uguali per tutti, siamo contenti di vivere in un paese dove sono arrivate la libertà di stampa e la democrazia parlamentare e così via, ora tutte queste cose non le ha portate tutte insieme immediatamente l'armée d'Italie, ecco, ma quelli che combattevano contro l'armée d'Italie hanno poi combattuto anche contro tutte queste cose che invece hanno vinto e ci sono state. Dopodiché, dopo di che naturalmente nulla è senza macchie, nulla è senza contraddizioni e quando noi vediamo appunto dei contadini che spinti dai loro preti si ribellano, sono gli stessi contadini che al sud nel regno di Napoli arriveranno fino a Milano condotti dal cardinale Ruffo e lì trucideranno i patrioti della rivoluzione napoletana e quegli stessi contadini si ribellano anche in Piemonte, anche in Lombardia, anche in Veneto e sanno cosa stanno facendo? Forse sì, loro hanno spiegato che quelli sono stranieri, che è la cosa più importante e quei contadini vengono repressi e fucilati e a noi che poi abbiamo visto il Novecento, veder succedere quelle cose già alla fine del Settecento, un po' di brivido lo mette naturalmente e ci aiuta a capire che non è che appunto noi possiamo dire mischiero da quella parte o da quell'altra senza sé, senza ma, no, no, ogni cosa è complessa, però le forze migliori dell'Italia di allora hanno accolto l'arrivo di buona parte a Milano come l'annuncio di un mondo nuovo che si stava manifestando in un paese che ne aveva un gran bisogno, no? Ecco. E poi però noi dobbiamo anche chiederci cosa è stato tutto questo per lui, perché sarebbe molto bello se quando lui parlava in italiano a Milano noi potessimo dire perché in fondo si sentiva ancora italiano e all'Italia ci teneva. Io non credo che questo si possa dire più di tanto. In altre parole noi dobbiamo distinguere ciò che Napoleone ha rappresentato agli occhi della gente e ciò che di fatto lui e le forze che lo sostenevano hanno realizzato, dobbiamo distinguere da una valutazione di lui come uomo, che potremmo anche dire al limite ci importa fino a un certo punto se non fosse che è Napoleone e quindi magari invece ci importa effettivamente e su lui come uomo bisogna dirlo, lui ovviamente è un ambizioso, è una rivista, è uno che pensa a costruire la propria carriera e la propria immagine senza scrupoli e lui non vuole essere italiano in realtà, può essere una cosa utile per gli italiani ecco, ma lui vuole essere un francese, tutta la sua carriera è costruita sulla Francia e allora lui incarna questa grande contraddizione della rivoluzione francese che continua durante l'impero, ecco l'impero ne parleremo cambia tante cose rispetto alla rivoluzione, in alcuni casi torna proprio indietro, in altri invece prosegue la spinta della rivoluzione, ma in particolare rimane sempre vittima di questa contraddizione, da un lato un ideale di libertà, di eguaglianza per tutti i popoli, tutti i popoli fratelli, un'Europa dei popoli fratelli, però uno dei popoli fratelli è il fratello maggiore e conta più degli altri e questo Napoleone lo dice proprio espressamente, quando negli anni dovrà appunto fare i conti con chi a suo nome governa il regno d'Italia, con Eugenio, il vicere, ecco Napoleone sarà spietato nel dire l'Italia deve tutto alla grande nazione e quindi deve ripagarla, deve venire a rimorchio gli interessi della grande nazione della Francia vengono prima di quelli dell'Italia e questo lo farà, come dire, in tutti gli ambiti, anche in quello economico, anche nel campo, anche in quei territori sempre più vasti, si arriverà anche alla Toscana, che vengono annessi direttamente alla Francia, però le nuove province italiane saranno sacrificate e per sostenere la seta di Lione si rovinerà la seta piemontese, lombarda, non importa, ecco. In piccolo succede anche in Italia quello che succederà in modo molto più drammatico appunto in Spagna, in Germania, in Russia dove la contraddizione esploderà, perché mentre tanti sono felici di vedere arrivare la libertà e legalità e lo Stato moderno, l'amministrazione efficiente, i diritti uguali, l'uguaglianza davanti alla legge e così via, però il fatto che queste cose siano portate da baionette straniere, a un certo punto si rivela intollerabile. L'Italia fa in parte eccezione, nel senso che una storia di opposizioni, di insurrezioni, di delusioni ovviamente c'è, ma niente di paragonabile a quello che succede in altri paesi. In Italia la delusione è forte e tuttavia Napoleone rimane l'unica alternativa. Pensiamo a Foscolo, Foscolo che è entusiasta di Bonaparte liberatore e scrive l'ode a Bonaparte liberatore, poi però quando c'è il trattato di Campoformio e Venezia regalata all'Austria la delusione è immensa e Foscolo pubblica delle pagine amarissime sul fatto che non si può far sventolare la libertà davanti al naso di un popolo e poi riportargli la via. Fa suicidare Jacopo Ortis per una delusione che sarà anche amorosa ma in realtà quello che vuole esprimere è la tragedia di quei giovani che in Napoleone hanno creduto e che adesso sono delusi? Sì, sono delusi, però poi Foscolo sarà un ufficiale dell'esercito del Regno d'Italia e parteciperà alle campagne della grande armata e nessuno lo obbligava. Il fatto è che dovendo scegliere sei deluso, hai constatato i limiti, hai visto che ci sono tante cose che speravi e che non arriveranno ma comunque quella parte lì è meglio dell'altra per un giovane italiano che spera che il suo paese rinasca ecco e questa cosa rimarrà fino alla fine in Italia non ci sarà una guerra di popolo per cacciare i francesi come c'è negli altri paesi che ho citato ecco e in Italia non c'è da nessuna parte una via vaterlo in nessuna città italiana c'è via vaterlo e in lingua italiana una vaterlo vuol dire un disastro una catastrofe mentre in Inghilterra è un nome che squilla vittoria noi la vediamo dal punto di vista di Napoleone quindi per chiudere appunto secondo me Napoleone è stato più importante per l'Italia di quanto non sia stata l'Italia per Napoleone per Napoleone l'Italia è stato un pezzo del suo mosaico di potere un pezzo dove lui poteva giocare questo gioco spudorato di passare per italiano e di parlare italiano cosa che però a Parigi non avrebbe mai fatto ecco ma per l'Italia quell'esperienza è stata un'esperienza da cui il paese è uscito cambiato per sempre anche se nel 1814 i Savoia e i Borboni tornando nelle loro capitali hanno creduto di poterlo riportare indietro non ci è voluto molto tempo perché capissero che si erano sbagliati già nel 20 e nel 21 i giovani ufficiali alcuni dei quali avevano fatto in tempo a servire sotto Napoleone hanno fatto capire ai loro re che il paese non poteva tornare indietro si tu dici ha portato l'ideale della rivoluzione francese vorrei introdurre un bemolle su questo nel senso che appunto lui arriva nel maggio del 1796 come generale del direttorio apro e chiudo parentesi come generale di se stesso perché lui cercava di sfuggire e sfuggiva di fatto alle direttive del direttorio quando non andavano esattamente nel senso che lui desiderava quindi ha avuto sempre una certa latitudine di interpretazione degli ordini ma soprattutto tra il 93 e il 96 gli ideali della rivoluzione francese avevano subito qualche colpo insomma c'era stato il termidolo di mezzo e quindi c'è questo paradosso da una parte c'è la borghesia illuminata l'aristocrazia più colta e progressista di milano che vede in lui appunto il portatore dei valori della libertà della rivoluzione dell'eguaglianza e quant'altro della fraternità dall'altra lui era diciamo anche un figlio del termidoro quindi diciamo non era esattamente uno scatenato giacobino non era un radicale non era un estremista non era un babu vista insomma lui si appoggia a milano non a caso su personaggi come melsideril piuttosto che serbelloni eccetera che rappresentavano noi potremmo dire da queste parti una specie di centro sinistra insomma quindi c'è questa diciamo questa discrasia temporale tra una borghesia e una classe protoresorgimentale italiana che si nutriva dell'ideale giacobino e degli ideali rivoluzionari dell 89 che si vede arrivare questo generale che poi chiama repubblica l'italiana quella che di fatto è un protettorato francese in termini geopolitici come tu giustamente ricordavi e qui introdurrei il secondo elemento parte nella conversazione precedente l'abbiamo già toccato e cioè che insomma può piacere non può piacere ma napoleone porta lo stato in italia porta una costruzione statuale che ha una sua struttura culturale ai suoi codici ha insomma un lascito che va anche molto al di là di quelle strutture statuali relativamente fimere ma che che ha creato ma che poi serviranno da modello in qualche misura anche per per lo stato italiano unitario che lui nei suoi momenti più deliranti immaginava di poter federare in un impero europeo ecco che cosa vuol dire lo stato napoleonico in quella fase storica che cosa ci ha lasciato oppure non ci ha lasciato quell'esperienza dal punto di vista della nostra cultura statuale diciamo che è un'esperienza che è stranamente poco parte della nostra memoria nazionale direi soprattutto per il fatto che alla fine è stato riconosciuto che si trattava di stati sia la repubblica sia poi il regno subalterni a una potenza straniera e quindi non sono entrati diciamo così poi per esempio nel grande dibattito risorgimentale sulle origini della nazione italiana e della statualità italiana voglio dire nel medioevo ma nel medioevo più lontano nel decimo secolo c'erano dei re d'italia ci sono stati dei momenti in cui il regno italico riusciva a staccarsi dall'autorità degli imperatori tedeschi e ad avere una sua indipendenza statale l'ultimo di quei re arduino di ivrea vive all'inizio dell'undicesimo secolo durante il risorgimento questi personaggi vengono riscoperti io giurerei che arduino di ivrea se ci pensate bene nei vostri ricordi scolastici da qualche parte a fiora sono stati riscoperti perché diamine l'idea che nel medioevo c'era stati dei re d'italia ora c'era stato un re d'italia anche 50 anni prima per l'appunto napoleone che scriveva sui suoi marenghi d'oro dio salvi l'italia ecco però non mi pare che sia stato riscoperto nel momento in cui si creava una mitologia nazionale per l'appunto no quindi in questo senso è un'esperienza in gran parte dimenticata quando è stata costruita la grande storia dell'italia unita è stata dimenticata anche l'esperienza militare l'esercito del regno italiano italico ha partecipato alle campagne di napoleone per anni coprendosi di gloria ha partecipato alla campagna di russia c'è una grande battaglia durante la ritirata di russia la battaglia di malo a yaroslavie dove i francesi in ritirata riescono a passare perché le forze dell'avanguardia sfondano i russi che cercavano di bloccarli e quell'avanguardia era il corpo italiano ma chi se le ricorda queste cose non si è voluto in nessun modo dare uno spazio a questa storia quando è stata creata un'italia unita che invece doveva essere come dire tutta legata alla storia dei savoia dovevano essere i savoia che nei secoli avevano pian piano costruito l'italia i savoia che secondo la storiografia sabaudista naturalmente cortigiana già dal medioevo sognavano di unificare l'italia non c'era spazio per l'esperienza napoleonica in questa mitologia nazionale dopodiché noi possiamo andare a vedere che cosa ha invece concretamente lasciato no vi faccio un esempio noi in italia abbiamo dei corpi di cui si sa da sempre che sono stati fondati a un certo momento e di cui si celebrano gli anniversari no c'è il centenario della fondazione del corpo degli alpini la fondazione dei bersaglieri da parte di alessandro la marmora la nascita dei carabinieri i carabinieri nascono alla restaurazione con i savoia quando i savoia ritornano in piemonte e riprendono il potere una delle prime cose che fanno è creare il corpo dei carabinieri che già allora come adesso è concepito come un corpo di polizia presente sul territorio che presidia il territorio perché vittorio emanuele primo appena tornato a torino crea il corpo dei carabinieri perché se ne sono se ne è andato il corpo dei gendarmi che napoleone aveva diffuso su tutto il territorio del suo impero e quindi anche nell'italia del nord ovest annessa alla francia il corpo dei gendarmi che era una forma una forma e una forza di polizia appunto di tipo nuovo che non esisteva in nessun modo sotto l'antico regime capillarmente distribuito sul territorio e che si era rivelato indispensabile per il funzionamento del nuovo stato oggi si parla molto di briganti nel settecento il Piemonte era pieno di briganti i luoghi dove adesso si producono vini costosissimi e americani e tedeschi comprano ville le langhe era un territorio dove tutti avevano l'archibugio dove le bande spadroneggiavano era pieno di briganti fin quando fin quando il Piemonte non viene annesso alla Francia e viene esteso al territorio piemontese la presenza del corpo dei gendarmeria la presenza della gendarmeria sul territorio elimina per sempre la presenza dei briganti e il re vittorio quando torna ovviamente la gendarmeria se n'è andata insieme con tutta l'amministrazione francese con l'uso della lingua francese negli uffici e nella corrispondenza ufficiale che tutti avevano sempre odiato in Piemonte che ovviamente è un paese italiano dove nessuno sapeva il francese tranne pochi aristocratici se ne vanno se ne vanno le amministrazioni con il mer ecco si torna indietro in tante cose ma in tante altre non si torna indietro la restaurazione che pure viene fatta appunto nel Piemonte Sabaudo con estrema ottusità in molti ambiti ma in altri ambiti non può tornare indietro i carabinieri sono proprio diciamo l'esempio plateale per cui non gli diamo lo stesso nome li chiamiamo in un altro modo ma quella cosa lì che hanno portato i francesi ce la teniamo ecco e in realtà poi diciamo che nella vita politica italiana l'esperienza francese rimarrà radicata nel senso che il modello sarà quello in Francia la rivoluzione ha introdotto e Napoleone ha consolidato un regime amministrativo ipercentralista ipercentralista burocratico con una rete diciamo di trasmissione molto strutturata sul territorio i prefetti i sottoprefetti i ministeri nella capitale che controllano tutto danno ordini a tutti e ricevono continuamente rapporti e leggi uguali per tutti sistemi di misura uguali per tutti una ecco questa cosa questa cosa rimane io non so non sono uno studioso di queste cose non so se si tratti di una cosa consapevole o su cui ci sia stato un grosso dibattito ma di fatto di fatto l'amministrazione dei savoia erediterà e conserverà in pieno questa idea centralista unificata al massimo gerarchica piramidale dell'amministrazione e la imporrà all'italia unita al momento dell'unificazione invece non c'è bisogno di essere uno studioso per saperlo lì il dibattito c'è stato c'è stato e come e perché dobbiamo estendere le stesse leggi piemontesi oltretutto a tutti quanti quando per esempio sotto molti aspetti il codice napoletano è migliore di quello piemontese perché comunque bisogna unificare e l'italia nasce come un paese appunto fortemente centralista con la sua rete di prefetti lì neanche il nome viene cambiato no ecco che rispondono al governo e quando ce n'è bisogno come succederà sotto giolitti come dire truccano anche un po le elezioni sono cose che succedevano già al tempo dei plebisciti napoleonici e continuano a succedere quindi io direi su questo che possiamo dire che in buona sostanza io adesso ho sottolineato di più un aspetto che si presta anche alla critica naturalmente perché appunto l'idea dello stato centralista anziché federale già allora già al momento dell'unità d'italia è stata discussa e ha lasciato molti insoddisfatti non c'è dubbio però al di là di questo è comunque un modello di stato moderno e il modello l'hanno portato l'ha portato la rome d'italia l'ha portato alla rivoluzione e poi l'ha consolidato l'ha consolidato napoleone insomma non so se in sala c'è il prefetto di lucca ma comunque credo che sappiamo tutti che uno dei compiti diciamo non ufficiali quelli dei prefetti è quello di quando c'è un'elezione c'è un risultato incerto di farlo pesare da una parte o dall'altra questo non l'ha inventato napoleone è sempre stato così in tutti i regimi un aspetto che mi pare interessante sottolineare di quello che tu dicevi è il paradosso per cui un piccolo ducato di passo come la Savoia su cui tu hai scritto un libro giovanile se non ricordo male in cui la classe dirigente la famiglia in qualche modo dominante parlava francese non esattamente esperta di italiano e quando poi i Savoia diventano re d'italia lo diventano in una forma peculiare cioè in modo dinastico cioè è la sardegna che si allarga da un punto di vista savoiardo e poi diventa regno d'italia e infatti vittorio romale secondo e non primo quindi si mantiene la numerazione savoiarda e così via ciò detto credo che bisogna anche ricordare un aspetto che nelle commemorazioni napoleoniche di questi tempi soprattutto in chi non ama napoleone viene spesso ricordato ho detto del 1802 cioè della nascita della repubblica napoleone primo presidente su questo fra l'altro nel volume di limes che abbiamo appena pubblicato c'è un bel articolo di marco magnani e c'è anche una carta di laura canali che rappresenta fisicamente questa repubblica nord italiana che si chiamava appunto repubblica italiana dicevo nasce questa questa repubblica e in qualche modo proprio per una curiosa coincidenza cronologica nel 1802 napoleone buonaparte ristabilisce la schiavitù quella che era stata abolita dalla convenzione nel 1794 e su questo una pioggia di polemiche e di accuse allo schiavista eccetera questo sappiamo che a diciamo non è che fossero tutti particolarmente antirazzisti e liberali anche i padri fondatori degli stati uniti d'america tanto per citare il caso più clamoroso qualche dimistichezza con lo schiavismo ce l'avevano ma quello che colpisce oggi è questa incapacità di leggere la storia nel contesto cioè immaginare che si possa trasferire il presente sul passato e quindi giudicare il passato sulle categorie del presente che quanto di meno storico o meglio di perfettamente antistorico uno possa concepire questo per ragioni di pura polemica o di puro esibizionismo ecco io avendo a che fare anche con dei manuali scolastici di mio figlio in cui per esempio si parla di caracalla e lo si associa al dibattito sullo iussoli mi preoccupo cioè che tipo di approccio alla storia sta maturando non solamente in questo paese anche in paesi molto più importanti del nostro penso agli stati uniti d'america cioè alla incapacità di considerare appunto che i personaggi vivono in un periodo in un contesto storico e culturale e non vivono nel tempo nostro e che quindi non possiamo giudicarli con i parametri nostri o sbaglio qui c'è un problema di base del nostro rapporto con la storia del nostro dico da sempre in realtà della nostra civiltà ma forse anche dell'umanità ma non voglio allargarmi troppo certamente da noi c'è sempre stata questa confusione i grandi avvenimenti storici i grandi uomini li dobbiamo ricordare perché sapere quello che è successo allora e sapere quello che hanno fatto ci aiuta a capire come è nato il nostro mondo o li dobbiamo celebrare perché sono stati dei grandi e per noi sono un modello voi capite se noi fossimo stati capaci sempre noi i nostri antenati tutti quelli che hanno tirato su delle statue a qualcuno se avessimo sempre avuto la lucidità di dire noi facciamo una statua a quel personaggio perché indubbiamente ha rappresentato una svolta nella storia ha spinto il mondo un po più nella direzione in cui ci troviamo adesso vale la pena di ricordarlo basta fine ma invece automaticamente noi abbiamo sempre dato per si è sempre dato per scontato che quando fai una statua un personaggio è perché quello è un gran duomo e a scuola devi dire ai ragazzini prendete esempio da lui ecco tutti i padri no a cui appunto i padri fondatori i padri pellegrini i padri della tutti i padri allora quando scopri che un padre ha fatto anche qualcosa che a te invece dà fastidio e non te l'immaginavi non te l'aveva detto nessuno e ci rimani male allora la tentazione ovviamente di dire ma allora non ti voglio più non ti voglio più come padre questo secondo me è una tentazione diciamo così adesso ci stiamo un po allontanando da napoleone poi possiamo ancora parlare di come napoleone è stato come dire amato e odiato per i motivi più opposti in realtà ma fermandoci a questo discorso un po più generale io credo io credo che si possa dire non si può dire niente di sicuro è perché io stesso discuto di queste cose con persone care e trovo spesso persone care che hanno idee diverse dalle mie a me personalmente sembra che bisognerebbe appunto mettersi d'accordo sul fatto che quando abbiamo tirato su un monumento a cristoforo colombo lo abbiamo fatto perché cristoforo colombo ha cambiato il mondo e il nostro mondo viene da lui dopodiché non c'è nessuna cosa sgradevole che possiamo pensare di colombo che giustifichi il fatto di tirare giù quella statua questa però è la mia opinione c'è anche chi dice no ogni generazione ha diritto di scegliersi le sue statue e i suoi personaggi perché non puoi se c'è la statua non puoi eliminare il fatto che è anche in qualche modo additato a modello la cosa curiosa nel caso di napoleone che noi oggi appunto lo critichiamo e magari abbiamo addirittura voglia di non parlare più di lui di non celebrarlo di demolire la sua immagine per cose di cui alla sua epoca non importava niente a nessuno in europa fra le classi dirigenti e colte europee mentre per mille altri motivi c'era chi pensava che napoleone fosse un mostro non semplicemente un personaggio negativo un nemico ma proprio un mostro se voi andate a vedere ed è un esercizio molto interessante cercare in internet le stampe satiriche inglesi dell'epoca di napoleone napoleone era figurato in modi ripugnanti un anerottolo sanguinario che balla fra i cadaveri che impugna coltellacci sanguinanti napoleone era considerato da alcuni un grande da altri un mostro e la cosa straordinaria è che come dire non c'era una logica sola ma c'erano due logiche contrapposte in questo mi spiego l'ho detto in modo un po' complicato mi spiego con un esempio napoleone primo console comincia a subire degli attentati in particolare ce n'è uno terribile la vigilia di natale dell'anno 1800 che è passato alla storia come la macchina infernale è la vigilia di natale napoleone deve andare all'opera con giuseppina giuseppina non è ancora pronta napoleone parte prima impaziente in carrozza mentre la carrozza attraversa una viuzza stretta che oggi non esiste più la runichese si sapeva che l'itinerario era quello nella runichese un po' di tempo prima è arrivato un tizio con un carretto si è fermato lì poi ha chiamato una bambina una mendicante le ha detto guarda ti do un soldo tu resta qua vicino al carretto sta attenta che nessuno lo tocchi la bambina è rimasta lì arrivava gente perché si sapeva che doveva passare il primo console arrivava gente per vederlo passare è passato un attimo dopo il carretto è esploso era carico di esplosivo ha falciato decine di persone napoleone è furioso è convinto che sono stati i giacobini a mettere la bomba cioè i rivoluzionari tu dicevi prima giustamente napoleone che pure è stato un giacobino e ha cominciato a fare carriera sotto i robespierre grazie all'amicizia del fratello di robespierre però poi dopo termidoro si è adattato rapidamente al nuovo sistema napoleone non è mai stato un ideologo ha sempre navigato a vista ecco e sa benissimo di aver come dire fermato certi aspetti della rivoluzione riportato indietro la francia sotto certi aspetti docento non mi ricordo più forse non ancora fatto il concordato con la chiesa ma si sa che quella è la linea la tendenza e napoleone sente che i vecchi rivoluzionari puri e duri gli estremisti i terroristi lo odiano e fa capire rapidamente che lui è sicuro che sono i giacobini che hanno fatto questo attentato e fouché il capo della polizia glieli trova immediatamente dopodiché vengono processati e ghigliottinati dopodiché fouché continua a indagare e abbastanza presto scopre che invece sono stati i monarchici cioè mentre i giacobini secondo napoleone lo odiavano per aver tradito la rivoluzione la realtà è che l'attentato lo fanno i monarchici che odiano napoleone come simbolo della rivoluzione e questa idea dei suoi nemici che fanno fatica a distinguere a noi sembra così chiaro che napoleone è tornato indietro su tante cose no ma quando napoleone attraversa l'austria e la germania nel 1805 diretto verso il campo di battaglia di austerlitz ci sono testimonianze di persone che dicono è l'apocalisse robespierre a cavallo attraversa la germania ecco non per tanti tutta quella che a noi sembra l'enorme differenza fra robespierre e napoleone non conta niente perché comunque in un mondo ideologicamente spaccato per i nemici della rivoluzione lui è ancora un rivoluzionario e invece per i rivoluzionari estremisti lui è il traditore ecco avevano dunque tanti motivi per amarlo per odiarlo e io non credo che ci sia stato nessun particolare dibattito nel momento in cui gli interessi dei piantatori di haiti di santo domingo hanno spinto perché perché questa repubblica creata dagli schiavi fosse soppressa e perché si tornasse al vecchio sistema insomma ecco ovviamente delle voci che riflettevano criticamente sulla schiavitù c'erano già nell'europa del settecento c'erano già delle leggi che mettevano dei limiti c'erano già stati i processi in inghilterra in scozia quando arrivava un piantatore dalle colonie e si portava dietro lo schiavo nero e le associazioni per l'abolizione della schiavitù contattavano lo schiavo nero e lo convincevano a far causa al padrone perché secondo la legge britannica nessuno può essere schiavo sul suolo britannico non è che il problema non si ponesse però la nettissima sensazione che rispetto all'enorme importanza anche emotiva che noi oggi diamo a questi problemi ecco nel dibattito di allora le cose che dominavano erano ben altre ecco dopodiché appunto hanno ragione i miei amici che dicono ogni epoca ha diritto di scegliersi i suoi esempi e se per noi una delle cose attraverso cui vogliamo leggere la storia è il problema della schiavitù della supremazia bianca e allora certo allora certo di napoleone non sappiamo più cosa farci neanche naturalmente del marco aurelio che a questo punto toglieremo dal campidoglio perché marco aurelio è stato imperatore di un impero schiavista ecco non parliamo di giulio cesare di cicerone e così via cioè vedete come è facile arrivare all'assurdo con queste cose però una cosa la stiamo imparando e cioè che appunto celebrare celebrare un anniversario come stiamo facendo noi adesso non può mai essere creare delle manifestazioni per dire che grand'uomo è stato e quanto gli dobbiamo celebrare perché la parola va bene celebriamo un anniversario celebriamo un grande personaggio di cui noi adesso ci sembra di dire qualcosa di nuovo ma ha già detto tutto manzoni ha già detto tutto manzoni dicendo c'era chi lo adorava c'era chi lo odiava è stato l'arbitro di un mondo spaccato due secoli l'un contro l'altro armato è stato idolatrato e adulato vergognosamente quando era al potere e poi gli hanno sputato tutti addosso quando è caduto io dice manzoni non ho fatto né una cosa né l'altra però una cosa la so che è stato un uomo enorme per quello che ha rappresentato non per chi era lui poi alla fine manzoni però si sbilancia anche non è andato all'inferno napoleone dio comunque lo ha salvato e il che vuol dire che per uno che appunto era uno di quei ragazzini che erano bambini quando è scoppiata la rivoluzione e chissà cosa si sentivano dire nelle scuole dove andavano dai buoni padri a milano ecco e poi hanno potuto vivere nell'italia e nella francia di napoleone manzoni ha vissuto cinque anni nella parigi di napoleone come sapete e poi l'hanno visto crollare e hanno avuto modo di soppesare appunto il bene e il male le adulazioni le critiche gli insulti alla fine manzoni dice dio ha creato un uomo così grande dio certamente alla fine lo ha salvato ecco e questo vuol dire qualcosa secondo me forse possiamo salvarlo anche noi sapendo che appunto ha commesso enormi errori ha fatto tante cose che a noi non piacciono ma è uno dei momenti diciamo che non si possono aggirare della nostra storia passata guai se dovessimo dire siccome ha fatto delle cose che non ci piacciono allora parliamo meno di lui parliamo nel meno possibile censuriamolo ecco questo sarebbe secondo me uno sbaglio mi viene in mente mi viene in mente adesso dobbiamo avviarci la conclusione che forse l'atto più importante che fece il primo presidente della repubblica italiana fu la cessione della louisiana che avvenne nel 1803 io ricordo ero in america in quel periodo e mi ha colpito l'inconsapevolezza nel dibattito pubblico americano del ruolo fondamentale che napoleone ebbe nella grandezza degli stati di america un ruolo da quello che abbiamo appena finito di ascoltare probabilmente superiore a quello che ha avuto nella costruzione dello stato italiano fatta ogni differenza di potenza fra questi paesi insomma è stato diciamo molto molto più importante fuori dalla francia forse anche che non nella francia stessa infatti anche il modo un po ambiguo e soft con cui è stato ricordato in questi giorni in francia con un misto di ammirazione ma con che fa un grande discorso e conclude dicendo il sole di austerlitz brilla ancora però dall'altra parte tutta una intellettualità desinistra chiamiamoli così che lo presenta appunto come un retrogrado schiavista e quant'altro insomma è un personaggio ancora contestato però c'è un punto che non riguarda la persona di napoleone ma che riguarda la francia e cioè noi forse non siamo abbastanza consapevoli ammesso che di qualcosa lo siamo dell'importanza che la francia ha avuto nella costruzione di questo paese è qualcosa che abbiamo sempre un po rimosso tu dicevi prima la nostra classe dirigente risorgimentale non aveva un particolare sentimento in questo primo grande romantico francese va bene però anche successivamente non è così cioè per esempio il ruolo di un altro napoleone perché in francia si dice sempre napoleone primo non si dice napoleone napoleone primo e napoleone terzo sappiamo che il secondo che c'è una fine piuttosto rapida e sfortunata ecco quando nel 1959 il generale de gaulle fece una grandiosa visita in italia con un enorme successo di pubblico era il mi pare il giugno del 1959 lui va a milano c'è una messa celebrata dall'allora arcivesco montini e poi alla fine di questa messa un gruppo di donatori di sangue lombardi si avvicina al presidente francese gli dona un'ampolla non l'ampolla del po ma un'ampolla con sangue lombardo in memoria del sacrificio francese sui campi di marengo e di solferino ecco questi sono atti che oggi sembrerebbero impossibili ma che vengono recuperati oggi da una certa retorica francese misura molto minore anche italiana nel momento in cui come dicevamo prima nella conversazione precedente italia e francia trovano un allineamento geopolitico e di politica economica fiscale particolare che dovrebbe essere addirittura sigillato da un trattato bilaterale franco italiano trattato del quirinale ecco questa scarsa consapevolezza del ruolo storico che il rapporto con la francia ha avuto per il nostro paese per te che poi provieni da una regione confinante come lo spieghi ma io credo che si possa spiegare col fatto che noi come dire veniamo da una lunghissima esperienza di celebrazione dello stato nazionale come l'unica forma compiuta di vita associata e lo stato nazionale per definizione non può essere debitore di qualcun altro noi oggi viviamo in un'epoca in cui non è affatto chiaro se lo stato nazionale fosse un ferrovecchio che è bene imparare a superare e anche in questo caso non siamo così sicuri che si sia provato nel modo giusto a farlo ma certamente diciamo è il grande problema il grande dibattito che ci aspetta questo ma fino a qualche decennio fa il discorso non era quello la vita si svolgeva interamente all'interno dei confini nazionali l'identità qualunque cosa possa voler dire questa parola che vuol dire tante cose come sapete però era un'identità legata appunto a una grande narrazione gli storici usano questa espressione la grande narrazione con cui specialmente nell'ottocento ogni popolo ha deciso che cos'era che bisognava raccontare per far capire alla gente di far di costituire una nazione no e allora per i serbi e la battaglia di kosovo polie supponiamo ecco per gli inglesi è il 1066 la conquista normanna e poi e poi però il parlamento la rivoluzione inglese ecco per noi per noi è stato come dire i comuni medievali legnano la vittoria contro il barbarossa poi la lunga decadenza di un'italia divisa e poi finalmente l'italia unita e allora a questo punto come fare a sottolineare che l'italia non sarebbe mai riuscita a unirsi sì lo si diceva tra le righe no la grandezza di cavour qual era grandezza di cavour il grande tessitore e che ha saputo creare l'alleanza con napoleone terzo ma quello lo si diceva perché bisognava celebrare cavour per la sua geniale politica poi però di napoleone terzo basta non se ne parlava più per niente naturalmente no ecco io credo che sia normale io credo che sia normale perché un conto è ciò che studiano gli storici che studiano di tutto qualunque cosa ciò che può finire sotto i riflettori e ciò che invece non importerà mai a nessun altro e un conto invece è appunto ciò che finisce sotto i riflettori che vuol dire anche nell'istruzione pubblica nei manuali scolastici e così via lì io non mi non mi sento di stupirmi ecco del fatto che il ruolo della francia nella storia dell'italia unita non sia così così evidente a tutti e così sottolineato d'altra parte d'altra parte poi se uno percorre un po la storia degli ultimi due secoli ce ne sono di oscillazioni anche vertiginose perché se uno pensa a quello che si diceva nell'italia del 1914 quello che si dice nei discorsi di dannunzio le sorelle latine la civiltà latina l'italia e la francia che non possono non marciare insieme contro la barbarie teutonica no e l'impatto che queste cose hanno su un'opinione pubblica che si lascia si lascia influenzare da questi discorsi tanto da precipitare il paese nella guerra certo le motivazioni sono tante ma la propaganda batteva molto su quello e poi e poi una generazione dopo il fascismo potrà dare invece della francia l'immagine di un paese decadente corrotto senza anima ecco in mano agli ebrei come dire gli altri paesi possono l'immagine degli altri paesi può sempre essere manipolata in base agli interessi del momento c'è poco da fare quando quando l'unico orizzonte è quello dell'identità nazionale e della storia nazionale e niente questo secondo me si è fatta una certa ora è stata un'ora molto piacevole e te ne siamo credo tutti grati ci sarà senz'altro un'altra occasione grazie ancora buonasera grazie a tutti grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te